Musica Amici eccoci di nuovo, siamo pronti a fare la nostra spesa a Montesilvano da Conat Asia. Oggi voglio chiedere al nostro chef di realizzare un dolce tipico di queste festività. Sto parlando dei cacionetti. I cacionetti sono un dolce tipico della tradizione abruzzese e in ogni caso si fanno in un modo diverso. Io per questo voglio chiedere al nostro chef di darci la ricetta originale. Andiamo! Quando ero bambina la mia nonna mi faceva fare i cacionetti con le mandorle, con i ceci, con le castane. Io oggi non voglio sbagliare, quindi acquisterò due ingredienti che nei cacioni veramente non mancano mai. E sto parlando del cioccolato e delle mandorle. Ecco le nostre mandorle. Mezzo chilo di mandorle saranno sufficienti per realizzare i nostri cacionetti. Tra l'altro mi affido come sempre al marchio Conat. Sono sicura di aver risparmiato e di aver acquistato un prodotto di grande qualità. Aggiungiamo un ingrediente goloso, del cioccolato fondente. Mandorle E cioccolato fondente. Oggi abbiamo un appuntamento con la tradizione. Corriamo! Amici di A Tavola con lo Chef, ben ritrovati! Noi siamo qui ogni giorno per proporvi delle ricette anche in questo periodo di festività. Oggi voglio chiedere al nostro Chef Antonio Di Giovacchino di realizzare una ricetta tipica delle festività natalizie. Ciao Jennifer! Ciao Antonio! Io sto parlando dei cacionetti. I cacionetti praticamente non è Natale se non abbiamo i cacionetti a casa. Ecco io per questo c'è la mia nonna che mi ha insegnato a fare qualcosa. E ho comperato delle mandorle e del cioccolato. Quindi una spesa molto semplice. So che questi ingredienti si inseriscono bene in questa ricetta. È essenziale praticamente diciamo per fare due cacionetti. E poi le altre cose le aggiungiamo. Poi dipende da quello che ci vuoi mettere. Se lo vuoi fare con i ceci o vuoi fare di marmellata. Noi in questo caso facciamo il tradizionale cacionetto proprio abduzzese. Io e me hanno imparato a casa a farle con i ceci e li facciamo con i ceci. Perfetto insomma anche perché poi sappiamo che ci sono tantissime varianti. Però noi vogliamo dare ai nostri telespettatori la ricetta più antica. E quella con i ceci insomma è quella proprio... Era nei ceci. Perfetto allora cominciamo. Iniziamo Jennifer. Io qua già mi sono preparato per praticamente per la sfoglia. Ho preparato e ti dico come si fa la sfoglia. Perfetto anche perché sappiamo che insomma la sfoglia è fondamentale, importantissima. Allora questa sfoglia praticamente io lo faccio ancora... Usiamo ancora il bicchiere, allora non pesato. Ah ok. Praticamente qua facciamo due bicchieri di vino bianco, un bicchiere di olio, poi usiamo dello zucchero, due pizzichetti praticamente, così un pizzichetto di sale. E la farina, quello che raccoglie questo contenuto liquido, si mette la farina e si raccoglie. L'impasto deve essere così. Ma lo sai che... Non troppo duro. E' proprio come quello della mia nonna, la stessa ricetta. Siccome c'è l'olio praticamente non c'è neanche il problema che di solito che si attacca, che dà pastiglio, è facile da lavorare. E questo e noi abbiamo già, ci siamo preparati una sfoglia, una sfoglietta da metterci dentro, poi ci si mette dentro quello che si vuole. Ecco la sfoglia deve essere quanto sottile? Possibilmente io sottile. Più sottile è, più leggero è il cagionetto, se no dopo sa troppo di massa, è troppo in suppa, troppo di olio. Anche perché è ripieno. Invece è più leggero e ripiene quello che conta. Ha il suo sapore, ha la sua consistenza. Praticamente qui dentro puoi mettere la marmellata, puoi mettere il miele, con delle mandorline, si può mettere il cioccolato, per i più amanti del cioccolato. Per i più piccolini magari. In questo facciamo così. Allora, parliamo dei ceci lessati, sempre dei ceci sultani lessati. Li passiamo, li puoi, o passare alla bassa verdure, oppure li puoi frullare. L'importante è che vengono praticamente sottili, non ci deve essere la buccia dei ceci. Quindi che sia praticamente una crema. Una crema, una cremetta di ceci. Andiamo a mettere dello zucchero, arancio, una scorzetta di arancio grattugiato, e poi mettiamo delle mandorle tostate, sempre tostate e poi tritate. Poi andremo a mettere del cioccolato. Il cioccolato, scusami Antonio, dobbiamo scioglierlo? Si scioglie, perché dopo questo qua, una volta messo tutti questi prodotti qua, questi ingredienti, andremo a mettere del mosto cotto, del mosto cotto, e lo facciamo cuocere per una decina di minuti, e in questo caso si va a sciogliere, tutti questi ingredienti qua vengono amalgamati benissimo, e otteniamo, ecco, questa è tipo una purè, questa è la consistenza. Ok, quindi basta semplicemente assemblare tutti gli ingredienti. L'importante è che i ceci sono passati bene, praticamente. E quindi poi dobbiamo far saltare un pochino sul fuoco? Si, sul fuoco, una decina di minuti, i ceci setacciati, se li volete settare, l'importante è che non c'è la buccia, se no si sente, è ben cotti. Eh sì, si fa fare una decina di minuti, senti che profumo. A vederlo forse non è tanto, però il profumo è invitante. Sì, lo dico sempre, per i nostri telespettatori che non possono sentire il profumo delle pietanze che prepariamo qui. Proprio quel profumo di mosto cotto, di ceci, il profumo di Natale. Il profumo del Natale, ecco, mi tolto le parole della bocca, Antonio. Allora, noi possiamo praticamente proseguire con, vediamo l'olio come sta. Senti, Antonio, ti posso aiutare a farne qualcuno? Allora, io comincio da questa parte. Prendi da questa parte, inizia tu da questa parte, sì. Senti, io la grandezza di solito sono un po'... Dopo questo dipende da se uno vuole essere bello, una volta si era bello abbondante il ripieno. Allora si metteva, si fa sempre un po' più il risparmio, ma alcune cose il risparmio, dopo il gusto, non è che... Assolutamente sì. È vero. Assolutamente sì. Allora, facendo così mettiamo un bel pezzettino di cose. Ecco qua, la faccia è pronta. Perfetto. Benissimo. Adesso pieghiamo, ecco qua, così. Jennifer, ok. Ma che onore lavorare con lo chef. Eccolo. E quindi io sono abituata a fare con il dito. Ecco qua, io pure così faccio. Ecco qua, ci siamo. Benissimo. E poi questo veramente è un dolce antichissimo, Antonio, vero? Sì, 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 sì. Io da bambino già li facevo. Quindi insomma... Mi divertivo già a fare queste cose con mia mamma e mia nonna. Quindi la predisposizione ai fornelli ce l'hai sempre avuta. Prima si metteva bella vicino al caminetto, il periodo invernale, questo è il gioco dei bambini. Quale gioco migliore? Noi lo consigliamo sempre ai nostri telespettatori di far provare ai bambini a cucinare. Perché cucinare è veramente una bella attività che unisce la famiglia. Poi Jennifer, se parliamo, gli altri dolci si possono fare in qualsiasi altro periodo dell'anno, però nel periodo natalizio facciamo i cagionetti. Si mangiano i cagionetti a Natale. E basta, dopo magari non ne vogliamo più sentire per tutto l'anno. Però a Natale mangiamo i cagionetti. Infatti, infatti. Ecco qua, ci siamo con questi qua. Adesso andiamo alla frittura. Una volta tagliati così, in questo modo, dopo chi li fa più grandi, chi li fa più piccoli, questo lo lasciamo a discrezione della signora che in base alle esigenze, in base alla simpatia lo fa. E poi una volta fatti così li cominciamo a buttare nell'olio. L'olio ricordiamolo deve essere molto caldo. L'olio, sempre ben bollente, se no si insuppa. Ecco qua. Mettiamo qua, gente. E ci siamo. Mettiamo tutti. Io li ho fatti belli grossi. Il profumo di Natale che respiriamo qui. Il profumo del Natale. E adesso questo lo possiamo togliere. Così passiamo. Creiamo un po' di spazio. Ecco qua. Siamo pronti già col piattino. Quindi mediamente il tempo di cottura, Antonio? Poco. Meno di cinque minuti. Meno di cinque minuti. Quindi giusto un salto nell'olio. Un salto, sì. Ecco qua. Ci siamo. Possiamo tirare. Mettiamo, una volta che li tiriamo fuori, sempre sopra una carta che assorbe l'olio. Se no, altrimenti... Ecco qua. Passiamo lì in piatto. Quindi una volta... Ah, ecco, facciamo notare i nostri tre spettatori. La massa ben riuscita. E questo ci risiamo. Lo diceva sempre la mia nonna. Deve avere queste bolle. E quello è lo zucchero che fa questo effetto. Ah, quindi le bolle sono dovute alla quantità di zucchero. Ok, ecco, possiamo incattare i cagionetti, diciamo. I cagionetti. Siamo andiamolo così. Io preferisco, Jennifer, metterci dello zucchero, come si faceva una volta, che non c'era praticamente il zucchero a velo. Io metto su dello zucchero così. Dopo, dipende, chi ci vuole mettere anche un po' di cannella, però ecco qua. Questo è lo cagionetto tradizionale abruzzese. Dopo le varie diande si possono fare in tutti i modi, a simpatia. E' una cosa che dico, questi, Jennifer, non si possono mangiare caldicali. Ma io non resisto tanto. Perché dentro praticamente il cioccolato, tutte queste cose qua. Sono veramente buonissimi. E poi, questo ripieno, il mostocotto, gli dà veramente proprio quel tocco di casa nostra. Che profumo, sì, sì. Ottimo, ottimo. Amici, io ringrazio tantissimo Antonio e vi ricordo di continuare a seguirci, di realizzare queste ricette nelle vostre cucine e vi ricordo anche a Natale, a tavola con lo chef. Ciao. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.